Finalmente un po' di sorriso, dai. Ma il sorriso potrebbe essere anche un po' più ampio, però poi non interpretiamo bene alcuni momenti della partita, questo perché siamo anche un gruppo, voglio dire, complessivamente giovane, quindi poi attraverso un errore la partita diventa un po' emotiva e finisce in un modo come non doveva finire. Prima abbiamo avuto anche la possibilità tante volte a campo aperto di fare il tre gol, però ci intestardiamo nelle scelte individuali e noi riusciamo a concretizzare situazioni importanti. Non chiedo cosa ha detto quando De Marchi due volte ha sbagliato il gol del 3-0 perché siamo in fascia protetta. Ma no, ma alcuni devono capire che non si va alla ricerca delle soluzioni personali, se no poi dopo il calcio non ti gratifica, si gioca sempre per il gruppo, per i compagni, per la squadra. Avremmo potuto fare scelte migliori, ma attraverso gli errori si impara, però portanto abbiamo giocato una partita buona, importante, poi sempre con alcuni piccoli difetti abbiamo costruito tanto, insomma siamo ritornati. Andiamo avanti. Primo tempo, parliamo della partita, Auteri. Abbiamo detto in cronaca, l'abbiamo ribadito anche con Matteassi, probabilmente per continuità e qualità il miglior primo tempo stagionare. Sì, ma dobbiamo ritrovare, come ho detto prima, il gioco, poi dopo questo primo tempo in cui comunque loro erano un po' passivi perché non riuscivano mai a trovare i tempi dell'aggressione, noi la palla la facevamo circolare bene, abbiamo cominciato a fare una serie di errori così puerili, dove questi sono segnali di immaturità. e poi loro nel secondo tempo hanno cambiato il modo di stare in campo e lì non siamo stati bravissimi subito ad interpretare la partita. Sono stati tre attaccanti? No, non è quello, sono messi con un 4-3-1-2, quindi abbiamo tardato a chiudere sempre in un modo preventivo il loro avvio al gioco, la loro costruzione del gioco, quindi quasi sempre siamo venuti 20 metri, 30 metri dietro, ma ogni tanto ci può stare, perché poi in quelle situazioni magari quando fai dei brecchi come è successo puoi trovare possibilità importanti sul campo aperto, però in quelle possibilità importanti sul campo aperto siamo stati un po' egoisti, non abbiamo fatto la scelta giusta perché poi dopo le partite così la partita si sarebbe chiusa e invece l'abbiamo tenuta ancora viva. Ieri in conferenza hai detto due frasi che mi hanno colpito molto, la prima con la Lucchese abbiamo fatto una partita bruttissima, la seconda dobbiamo ritrovare anima, gioco e cuore. Mi dice come in una settimana il Pescara è riuscito a ritrovare il suo gioco dopo quella partita così brutta? In una settimana non è possibile, evidentemente i problemi di ordine, di squadra, di geometria, di organizzazione di gioco non ci sono mai stati, assieme ai problemi di condizione fisica, la squadra complessivamente sta bene dal punto di vista fisico, ha idee, è in grado di interpretare, poi è chiaro che sono sempre gli interpreti ed è sempre la pressione che su qualche ragazzo si riversa addosso e questo quindi non è che l'abbiamo ritrovato in una settimana, noi siamo in grado di essere più sereni, più lucidi e di giocare meglio a caldo. Due battute veloci che deve lasciarci il tecnico Auteri, la prima i fantasmi sono sempre più lontani, non li vede. Ma io non ho mai visti Fandarmi, guardi, ma su sé glielo dicono, ma no, ma su sé, ma ho sorriso anche ieri, basta quello che ha detto la società e poi dopo ho la coscienza. Questo è un gruppo ben allenato, è chiaro che non abbiamo fatto. Bisogna dare continuità. Ma ci mancherebbe altro e soprattutto è chiaro che dobbiamo prendere atto che non abbiamo fatto, questo è un passaggio, ce ne devono essere tanti altri. La faccio arrabbiare con l'ultima domanda, le scelte su Galano e Marilungo sono definitive? No, ma non lo so, ma sono tanti ragazzi qui. Solo per sapere se sono definitivi in attesa. Io non faccio mai nulla di definitivo, non ho mai nella mia carriera di allenatore mai abbandonato nessuno, è chiaro che poi voglio vedere dei riscontri in campo, perché sennò i salti nel buio non mi piace fare, voglio vedere dei riscontri in campo, io non abbandono mai nessuno.